Tanto parliamo di questa crisi di governo, insomma una cosa che ovviamente il Paese non si merita, che cosa succederà secondo voi? Ma io sono convinto fino ad oggi di avere, diciamo, quel santo protettore che è Mattarella, che ha svolto la sua funzione da questo punto di vista sempre in maniera incomiabile, sia nella vicenda Gentiloni che lo portò alla fine del mandato del 2018, del compimento della legislatura. E quindi mi immagino anche in questo atteggiamento che ha tenuto nei confronti di Draghi, il quale da non politico e da tecnico avrebbe chiaramente subito uscito e chiusa la fase di governo. Invece credo che ci sono tutte le condizioni per andare avanti e che sono indispensabili, perché secondo me questo è un governo che deve avere un progetto molto semplice, quattro o cinque punti di base che deve servire ad arrivare alla scadenza delle prossime elezioni che sarà tra febbraio scadono e entro maggio del 2023. Primo punto, l'attuazione definitiva del PNRR, del piano di resilienza. Due, l'affrontare una forza, diciamo, una forte presenza, vista la sua responsabilità e il suo peso in Europa perché abbiamo bisogno non solo di quella che sarà una crisi sociale che in autunno sarà molto forte, bollette, utenze, la crisi delle imprese, le difficoltà sociali in generale. Quindi abbiamo bisogno di un'Europa che tenga conto di queste esigenze per ogni paese. In più l'Europa deve anche riconsiderare che i soldi che ha dato il PNRR, del piano di resilienza, non sono ad oggi sufficienze per poter portare avanti tutti i progetti perché le materie prime sono triplicati i costi e quindi con la guerra ci dobbiamo prevedere una forte presenza di draghi in Europa. Terzo, c'è bisogno di una legge elettorale. Siamo passati da oltre il 70% al 55% e quindi credo una bella legge proporzionale con uno sbarramento alto e con il premio di coalizione a chi dopo vorrà coalizzarsi per ottenere un certo risultato e poter governare tutta una legislatura. Gli altri due punti essenziali sono, secondo me, quello che tutto il completamento delle riforme, fisco, giustizia, tutti questi temi che sono legati all'attuazione del PNR e che sono già in Parlamento in una fase di completamento che hanno bisogno di essere chiusura. Quindi sono fiducioso. E sono fiducioso perché? Perché penso che Draghi, su un pacchetto così molto chiaro, molto definito, possa andare avanti. Spero che i partiti storici, Lega, Forza Italia, Italia Viva, il PD, tutta quella azione e tutti quelli che sono stati partiti che hanno sostenuto questa fase di governo mantengono fermezza con in più chi? La parte governista dei Cinque Stelle, quindi il di maio di turno che sono convinto potrà portarsi dietro altri parlamentari, sarà un ulteriore punto fermo di questa fase politica insieme agli altri partiti che fino ad oggi hanno dimostrato di poter sostenere questo momento che aveva portato l'Italia a ritrovare una grande credibilità internazionale e ci aveva permesso di ripartire. Però ora i problemi sono molto grossi. fermarsi ora sarebbe un grande, grande, grande problema.